Questo è un periodo molto attivo per LG che ha presentato da pochi giorni il nuovo V30, ha lanciato sul mercato il modello Q6 e ora arriva anche con un altro prodotto molto particolare, ve lo mostro immediatamente, si chiama LG Q8, andiamo a scoprire insieme come si comporta. Ecco dunque il nuovo LG Q8 che arriva proprio in questi giorni sul mercato e che è una proposta dal punto di vista strategico, secondo me piuttosto singolare da parte di LG che ha ripreso il form factor di G5 proponendolo in un nuovo smartphone, quello che stiamo andando a scoprire adesso perché guardate se io affianco a questo prodotto il recente G6, vedete che parliamo di prodotti completamente diversi, le cornici ad esempio del G6 sono state praticamente eliminate sul fianco e molto ridotte nella parte superiore e inferiore a differenza invece di quello che capita nel mondo tra virgolette di Q8 dove vedete insomma la cornice è piuttosto generosa, tra l'altro i tasti a schermo tolgono ulteriore spazio ai 5,2 pollici a disposizione, vedete anche nella parte alta la cornice superiore è piuttosto generosa. è vero, quello bisogna prendere alto, che la cornice laterale invece è piuttosto contenuta. Qual è essenzialmente il livello, l'elemento di differenziazione vero di questo Q8? è il secondary display, il dual display, chiamatelo un po' come volete, ovvero questo secondo display che voi avete a disposizione che vi permette di accedere, vedete io non so, ad esempio sto lavorando come al solito dentro YouPorn, nel sito di YouPorn, però contemporaneamente posso andare a prendere degli strumenti, richiamare delle applicazioni, vedere le mie applicazioni preferite, i contatti preferiti, oppure governare la musica volendo essenzialmente vedere anche il mio calendario per gli impegni successivi. Quindi tutto sommato un dual display come quello che avevamo già visto nel V20, nel V10, ma anche nell'ex screen che può essere sicuramente utile quando si fanno azioni come quella di navigare in internet magari o fare altre attività anche solo con una telefonata in corso per richiamare un'altra applicazione. Cambia l'utilizzo di questo dual display quando il telefono è spento, perché vedete le opzioni che avete sono quelle del controllo della musica, dell'accesso ad alcuni degli strumenti che voi potete, utilizzare ed eventualmente ovviamente anche le informazioni sulla data e l'ora, quindi insomma essenzialmente sostituiscono l'active screen. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, doppia fotocamera sul retro con un sensore che è di 13 megapixel per la fotocamera principale, 8 megapixel invece per il grand'angolo, quindi essenzialmente è la dotazione del G5 con la stabilizzazione ottica dell'immagine, con il laser, un'apertura tra l'altro per la fotocamera principale quella da 13 megapixel che è un'apertura 1.8, mentre per quanto riguarda la camera da 8 megapixel l'apertura è invece 2.4. La fotocamera anteriore essenzialmente con un'apertura 1.9 invece rimane quella da 5 megapixel, questo essenzialmente è un dettaglio curioso perché anche il nuovissimo LG V30 ha una fotocamera frontale da 5 megapixel, questo va in una direzione molto diversa ad esempio rispetto ai prodotti cinesi che spesso invece in questo momento vi portano delle fotocamere frontali impressionanti addirittura siamo arrivati a fotocamere frontali da 16 megapixel con livello qualitativo davvero molto elevato dentro questo telefono, adesso vedete, non so cosa stesse facendo un secondo fa perché ha impiegato un po' di tempo ad aprire essenzialmente il cassettino delle azioni, dentro questo telefono c'è uno Snapdragon 820 ci sono 4 giga di RAM con 32 giga di memoria e una dotazione di software che è quella che conosciamo bene questo è l'interfaccia classico di LG a cui ormai noi siamo da tempo abituati se volete informazioni anche ad esempio sullo stato del software, Android è nella sua versione 7.0 non vi sto a leggere la versione della Baseband o del Kernel perché non credo solo che vi interessino più di tanto però diciamo che l'impatto di questo telefono essenzialmente è molto simile, forse più al G5 che non al G6 pesa 146 grammi, ha una certificazione IP67, questo vuol dire che è resistente all'acqua fino ad un metro per circa 30 minuti vediamo se questo comporta delle limitazioni particolari, allora ritorniamo visto che per qualche ragione ecco non c'erano connessi i dati, scusate, torniamo, togliamo di nuovo il Wi-Fi e torniamo a navigare per andare su Radio Ramber One vediamo se la certificazione IP67 incide tantissimo sulla qualità dell'audio che viene riprodotto sapete che essenzialmente quando interviene la certificazione spesso ne risente un po' l'audio diciamo che capita anche con questo telefono, forse voi non riuscite a captare molto dal microfono che cattura i suoni ma essenzialmente diciamo che l'audio è un po' cappato, è un po' come se fosse tarpato nel momento in cui viene riprodotto con un miscuglio diciamo un po' pasticciato di suoni ecco diciamo che non è esattamente la soluzione migliore possibile ed immaginabile per i suoni fotocamera con l'interfaccia che conosciamo la particolarità della fotocamera è che la selezione del formato della foto si fa qui sul display secondario quindi potete passare al manuale quindi il controllo essenzialmente di tutti gli aspetti della fotocamera quindi il wide balance, l'ISO, il tempo di scatto potete andare alla versione manual per quanto riguarda il controllo di video oppure la versione automatica a vostra volta nella versione automatica avete diverse modalità di scatto con la fotocamera che conosciamo molto bene, l'avevamo visto già anche in modelli precedenti di LG fotocamera ecco ovviamente non vi ho mostrato, approfitto a questo punto del duo display per attivarla non vi ho mostrato quelli che sono i comandi abituali cioè il fatto che si possa essenzialmente fare uno scatto di questo genere ovvero l'apertura più grande forse ci vorrebbe anche qualcosa da inquadrare per rendersi conto di che cosa succeda vedete questa è la versione di inquadratura ravvicinata e questa invece è la versione di inquadratura più ampia, diciamo più larga Snapdragon 820 vuol dire comunque un telefono con un buon livello a livello di consumi di una buona capacità di controllo dei consumi certo vuol dire però che si è anche indietro di una generazione rispetto a quello che essenzialmente oggi può essere utilizzato ovvero lo Snapdragon 835 e forse vi devo dire che in questo momento c'è anche in arrivo insomma lo Snapdragon 626 che rappresenta secondo me un'altra soluzione molto interessante perché comunque con buona velocità e con consumi praticamente inesistenti volevo farvi vedere anche il controllo del secondary screen vedete potete scegliere se usare il secondary screen con lo schermo acceso o con lo schermo spento cambiano però vedete le opzioni a schermo acceso le opzioni sono molte a schermo spento invece sono molto più ridotte essenzialmente potete solo scegliere gli strumenti rapidi ma non avete la scelta di applicazioni non avete la scelta di contatti insomma tutte queste opzioni che avete a disposizione sono valide solo ed esclusivamente quando lo schermo è acceso insomma Android 7 all'interno un display IPS LCD da 5,2 pollici con una definizione QHD quindi 1440x2560 una grande densità di pixel perché sono 5,2 pollici con questa definizione che vuol dire che ci sono 500 addirittura 64 pixel per pollice qua sopra c'è un Gorilla Glass 4 io con il doppio tocco ho spento il telefono una curiosità quando voi essenzialmente avete visto forse vedete torno scusate a spegnere vedete questo tema essenzialmente è stato ricavato dalla M di Mr. Gadget però ve lo chiede il telefono se volete utilizzare la vostra iniziale per essenzialmente generare un tema basato sulla vostra lettera ed essenzialmente è quello che ha fatto audio di buona qualità si arriva a 24 bit con 192 kHz per la registrazione a 32 bit con 192 kHz per la riproduzione ovviamente conservato il jack da 3,5 mm c'è l'attacco USB Type-C nella parte inferiore l'altoparlante che rimane qui in basso all'interno tra l'altro c'è la radio FM con l'RDS ci tengo a sottolineare che lo USB è un Type-C modello 1.0 vi ho detto forse che la batteria è da 3000 mAh e con questo dovrei avere esaurito tutte le caratteristiche di LG Q8 che arriva sul mercato a 599 euro sono curioso di vedere se riuscirà a trovare una collocazione